Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Sono di nuovo qui nel campo di addestramento Ho messo questa volta tutti contro tutti ma cambia pochissimo Perché alla fine devo farvi vedere come uscire dalla mappa Come uscire proprio dal campo di addestramento E muoversi tranquillamente in tutto il quartiere generale E anche nelle parti dove non è possibile arrivare Attraverso il classico quartiere generale Allora prima di tutto per poter arrivare Ovviamente in questo campo di addestramento avete visto il video precedente Per poter uscire proprio dalla mappa bisogna semplicemente ammazzarsi Quindi prendiamo una bella granata La teniamo tra le nostre mani come se fosse un petardo Moriamo e ovviamente ci farà spawnare qui davanti Attraverso un bastone Sì attraverso un tronco Saltiamo in avanti Saltiamo qui Andiamo a fare Ovviamente sono caduto male E no eccoci qui Perfetto Ok possiamo uscire tranquillamente Adesso possiamo muoverci attraverso tutta la mappa Allora andiamo a vedere un pochettino La cosa che vi stupirà di più Secondo me che mi fa troppo ridere È la complessità delle texture Allora andiamo attraverso il quartier generale Come potete vedere adesso possiamo entrare qui dentro Mancheranno un po' di edifici Adesso non so che mappa sia Ma nel senso che magari era una mappa incompleta Che dovevano ancora terminare Infatti manca tutto l'1v1 Vedete manca un po' tutto qui Dobbiamo uscire da questa parte Allora andiamo a vedere questi furgoni Cominciamo a guardare le texture Questi furgoni sono ancora fatti bene Più ci allontaniamo ragazzi Più vediamo le texture che vanno a puttane Possiamo attraversare anche questi camion Perfette ragazzi Guardate che bomba Fatto tutto benissimo Passiamoci in mezzo Andiamo avanti Vediamo un pochettino il tutto Legni che servono per i trasporti Non si sa che cosa Andiamo qui avanti Andiamo ancora avanti Queste sono tutte le texture che noi vediamo dalla distanza Furgoni fatti benissimo I soldati ragazzi Pronti a partire Pronti ad andare in battaglia Wow ragazzi Guardiamo qui Qui sono morto l'altra volta Ed eccoli qui i soldati Fatti veramente bene I battaglioni Ma guardate Che texture ragazzi Che cosa ci riserva Sledgehammer Guardate C'è ragazzi Questo si che è un gioco serio Wow So che non bisognerebbe mai arrivare a questi punti Nel senso delle mappe Però ragazzi Qua andiamo a vedere la complessità Di tutto quanto Forse le navi sono fatte bene ragazzi Non posso neanche provare ad entrare Perché so già di morire Comunque ragazzi Ve lo faccio rivedere Wow Questi soldati sono Ragazzi Qui sono l'unità speciale Della seconda guerra mondiale Del gioco L'unità ghost Che non si fa vedere Mamma mia E niente ragazzi Questo è un pochettino L'antipastino Che troverete Al di fuori Del quartier generale Potete anche andare Dall'altra parte Io vi ho fatto vedere Questa parte Perché è la parte Che diciamo Era chiude E quello che vediamo Ogni volta che andiamo sotto Andiamo Ecco qui Ora sono caduto in un buco E quello che andiamo A trovare Ogni volta che scendiamo qui Dove c'è la torre Dove c'è Dove c'è l'1v1 Dove c'è la modalità zombie Eccetera eccetera E qui ovviamente Se andiamo qui sopra Possiamo trovare i bunker I cannoni Le case Quella casa non possiamo arrivarci Perché l'ho già provato E muoio E muoio sempre Cado in un Nei soliti bug del gioco Seguite il percorso Come potete vedere Il quartiere generale È desolato Non c'è nessuno Potete entrarci dentro Ah mi C'è il tenente Howard Che ovviamente Gli manca la testa e tutto Ah no Le mani ce l'ha però La testa gli manca Però le mani ce l'ha Qua manca anche il generale Non c'è ragazzi Il generale è andato via Possiamo prenderci tutti gli encomi Che vogliamo Sì E qua c'è una macchina Prima c'era una moto Qui Ma che cazzo E niente ragazzi Possiamo andare ulteriormente Ma vi ho detto Cadrete nel nulla Come sempre Vediamo se possiamo entrare Nel poligono Ma penso anche questo di no Non è che siano cambiate molto Alla fine Tutto quanto Sì possiamo entrare dentro il poligono E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare E mettere mi piace Se ovviamente l'avete apprezzato Era per darvi un assaggio Di cosa c'è Al di fuori Di questo Di questo quartiere generale Noi ci rivediamo Al prossimo Bug Bella ragazzi Grazie